Alleluia, pace del Signore, cari fratelli e sorelle, siamo qui a Firenze, a Piaccia Puzzini. Alleluia, Firenze, Penti, di Gesù è l'unico Salvatore. Guardate quante anime. Alleluia. Qua viene meglio la connessione. Alleluia. Gesù la speranza. Gesù, God bless. Gesù di Amma, cari di Firenze. Salvatevi. Siamo qui a predicare il Vangelo come tempi antichi degli Apostoli che andavano per le strade, per le piazze, per i mercati a proclamare la verità. Cristo questa mattina ti vuole salvare. Alleluia, gloria di Gesù. Ti vuole salvare all'inferno che ci sarà dalla morte, dal peccato, il Messia, il Figlio di Dio. Oh, gloria, al nome del Signore. Tu devi conoscere questa grande verità. La verità del Vangelo, cari di Firenze. Cari di Passaggio. Gesù è la speranza. Gloria al tuo nome, Gesù. Alleluia. Gesù è la via, la verità e la vita. L'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo, il Signore. Noi siamo qui con amore e con rispetto a predicare un Cristo vivente. Perché Gesù non è morto. È risuscitato il terzo giorno dei morti. La tomba di Gesù è vuota. E lui ancora oggi fa i miracoli. Ancora oggi libera le persone. Ancora oggi Gesù spezza le catene della malvagità. Gesù Cristo, nonna religione, cari di Firenze. Oh, gloria al nome del Signore. Gesù Cristo questa mattina ti vuole salvare. Il Messia. Alleluia. Gesù questa mattina ti vuole illuminare. Non essere una pecora smarrita. Non essere una pecora perduta in questo mondo di tenebre. Ma cerca il Nazareno. Cerca Gesù. La Bibbia dice chi mi cerca mi trova. Chi mi cerca con tutto il cuore. Io mi farò trovare. Cerca il Salvatore, cari di Firenze. Dove andrai dopo la morte? Tu hai un'anima da salvare nel tuo corpo. Il corpo diventerà polvere, ma la tua anima uscirà dal tuo corpo e comparirà davanti a Dio. Non pensare solo a materialismo. Non pensare solo ai soldi, alle riccheche che non ci salveranno l'anima. Ma pensa piuttosto a Gesù Cristo che ha vessato il sangue sulla croce per te, che è morto per te, per me, per tutti noi. Su quella croce ha vessato il sangue prezioso Gesù Cristo di Nazareth. Gesù Cristo di Nazareth è il terzo giorno risuscitato dai morti. Che grande verità, cari. Non siate increduli, cari di Firenze. Non siate increduli. Anche l'incredulità porterà all'inferno, lo dice la Bibbia, non lo dico io, cari. Tutto ciò che dico è scritto per il mondo, il Vangelo e pazia, ma per noi che siamo salvati è la potenza di Dio. A me tu ti devi salvare. Tu ti devi salvare questa mattina dall'inferno. Gloria al nome del Signore, benedetto Dio. Gloria al Signore. Alleluia. Devi salvare dall'ira che verrà su questo mondo corrotto, malvagio, pieno di odio, pieno di peccato. Doverei nel diavolo, i principi di questo mondo, Satana, come dice la Bibbia. Ma Gesù l'ha sconfitto sulla croce quando è morto, quando ha detto Padre. Tutto è compiuto. Alleluia. E non è una favola come tanto. Lo sapete, il film di Gesù non è una favola come tanto. È la verità. Tutto ciò che è scritto nella Bibbia si è avverato, si sta avverando. Siamo negli ultimi tempi, i tempi della fine. I tempi della fine. Oh, gloria a Dio, non avere più un cuore di pietra. Non avere più un cuore di pietra. Santo, sii sensibile a questa parola. Perché Gesù ti ama. Ti ama Gesù. Oh, gloria a Gesù, Padre, illumina queste donne, questi uomini come hai fatto con me. Gesù ti ama. Gesù ti vuole donare tanta pace. Tanta gioia. La vita eterna. Oh, cari, la vita eterna. Oh, la vita eterna. Tu non sei nato solo per morire e poi basta. Dopo questa vita c'è un'eternità da passare. Oh, il paradiso, oh l'inferno. Scegli tu dove vuoi andare. Gloria a Gesù Cristo, il Signore. Gloria a Dio. Scegli la via stretta. Abbandona la via larga del peccato. Segui Cristo. Oh, lascia il peccato. Lascia il peccato, dice il Signore questa mattina. Segui Cristo e Messia. La via, la verità e la vita. Gesù disse, chi mi segue non camminerà più nelle tenebre. Ma avrà la luce della vita. Che parole. Gesù disse, dice ancora anche oggi nel 2018. Chi mi segue non camminerà più nelle tenebre. Ma avrà la luce della vita. Gloria a Dio è pieno. La luce della vita. La luce del Vangelo. La luce del Vangelo. La luce del Vangelo. Gloria a te Gesù. Io ti prendi. Santo. Alleluia. Gloria a Dio. Salvatevi, salvatevi. Da questa perversa generazione. La luce del Vangelo. La luce del Vangelo. Salvatevi, cari di Firenze. Da questa perversa generazione. La luce del Vangelo. La luce del Vangelo. Come il Vangelo, mettitevi al Vangelo. Alleluia. La luce del Vangelo. Gesù Cristo è l'unica salvezza. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia. Perdono. Ti prendono solo soldi. Pedofini. Alleluia. Alleluia. Ma Gesù che non è una religione. Santo. Gesù Cristo. Non è una religione. Non è una messa la domenica. Non è una statua. Un pezzo di gesso. Gesù è vivente. Gesù. God bless. King of the King of Messiah. Gesù è il Rederei. Gesù è il Messia risorto. È il Signore. Dio. Alleluia. Credo. Credi. Credi in Gesù Cristo che ha versato il sangue sulla croce. Siamo pazzi di Gesù Cristo perché ha cambiato le nostre vite. E lo diciamo anche qui a Firenze. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Siamo pazzi di te i nostri peccati prima che sia tardi. Per la tua anima. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Salvatevi da questa perversa generazione. Alleluia. Salvatevi da questa perversa generazione. E lo sa come sopra. Gesù Cristo è il Re dei Re. Gloria a Gesù. Gesù Cristo è il Re dei Re. Gloria a Gesù Cristo. Convertiteli. E lo facciamo in giro per il mercato. Gloria al Signore. Spero che sia andato bene. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Cercate il Signore. Gloria a Dio. Gesù Cristo è tanto grande. Gloria a Dio. Non c'è un altro come Lui. Che è il rezzo dell'impossibile. Ogni cosa che fa. Amene. Gloria a Gesù. Gesù Cristo è tanto grande. Gloria a Dio. Non c'è un altro come Lui. Gloria a Dio. Sì, sì. Che è il rezzo dell'impossibile. Ogni cosa Lui può fare. Gloria a Dio. Sono il tuo Dio che ti ama. Come potrei dimenticarmi di te? Se con la mia mano io ti ho formato. Ed il mio sangue per te ho versato. Come potrei dimenticarmi di te? Non ti lascerò. Alleluia. Non ti abbandonerò. Alleluia. Per sempre con te resterò. Alleluia. Non ti lascerò. Non ti abbandonerò. Per sempre con te resterò. Gesù Cristo è tanto grande. Non c'è un altro come Lui. Egli è Dio dell'impossibile. Egli è Dio dell'impossibile. Ogni cosa Lui può far. Gesù Cristo è tanto grande. Non c'è un altro come Lui. Gloria a Dio. Egli è Dio dell'impossibile. Gloria a Gesù. Alleluia. 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 Non ti lascerò. Non ti lascerò. Non ti abbandonerò. Per sempre con te resterò. Alleluia. Alleluia. Gloria al Signore. Meraviglioso cantico cristiano che ho cantato. Alleluia. Alleluia. Cercate una chiesa evangelica. Convertitevi al re dei re. Gesù vi vuole salvare questa mattina. Alleluia. Gesù vi vuole illuminare dal peccato. Dall'etere, dal satra, dalla morte. Alleluia. Gesù vi vuole donare la pace. Alleluia. Santo è il Signore. Dai il cuore a Gesù Cristo. Gesù è vivente. Gesù è vivente. Non è morto. Nel nome di Gesù. Cristo è vivo. Cari di Firenze. Gesù vive. Gesù è qui in mezzo a noi. Lo Spirito Santo in questo mercato. Che sta parlando ai vostri cuori. Oh gloria a Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Dice la Bibbia. Che ha mandato il suo rigenito figliolo. Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Dio ha tanto amato il mondo. Che ha mandato il suo rigenito figliolo. Non ti lascerò. Affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Non ti lascerò. Oh Dio vuole salvare la tua anima donna. Dai il cuore a Gesù Cristo. Glorie a Dio. Dai il cuore a Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Salva queste armi Signore. Oh che cuore di pietra. Danzo a Dio. Grazie Signore. Grazie Signore. Alleluia. Oh Gesù. Alleluia. Pregate per noi orandami in quel parchetto. Vieni. Allora a Dio. Santo. Sì sì. Santo. 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 Signore. Convertitevi. Meglio. 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 Salvatemi. Alleluia. 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 Cercate Gesù Cristo. La speranza. Glorie a Dio. Glorie a Dio. Qua ci sono tanti cuori duri. Glorie a Dio. Ci sono tanti cuori di pietra fratelli e sorelle qui a Firenze. Glorie a Dio. Ma Dio è potente da salvare ogni persona. Alleluia. Alleluia. Glorie a Dio. Glorie a Gesù Cristo in Nazareth. Ah qua pure c'è tanta gente eh. Glorie a Dio. Alleluia. Alleluia. Cercate Gesù Cristo. Alleluia. Gesù Cristo andate per tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Ah glorie a Gesù. Chi avrà creduto e sarà stato batteggiato e sarà salvato. Ma chi non avrà creduto sarà tornato a te. Scalvatevi dall'inferno. Glorie a Dio. E invitovi dai vostri peccati. Glorie a Gesù. Alleluia. 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 Salvatevi. Gesù Cristo la speranza. Alleluia. 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 Salvatevi, salvatevi dall'inferno che ci sarà, siamo qui a predicare il Vangelo come gli antichi apostoli che andavano per le strade, per le piazze, per i mercati, non perdere la tua anima, non pensare solo ai soldi, i soldi non ti salveranno l'anima, le ricchezze non ti salveranno la tua anima, ma Gesù Cristo ti può salvare questa mattina, Gesù Cristo ti può salvare, pensa a Gesù Cristo, senza Gesù ti perderà l'inferno, non c'è la Bibbia, ti perderà l'inferno, la tua anima, Santo Dio certo, esiste l'inferno, esiste Gesù Cristo, esiste anche Satana, il primo in questo mondo si chiama Satana, il distruttore, il maligno, ma Gesù ti vuole liberare questa mattina, alleluia, bella Gesù ti ama, abbia stato il sangue sulla croce anche per te, e il terzo giorno è risuscitato dai morti, Gesù Cristo è vivente, Gesù Cristo è vivente, Gesù è risuscitato dai morti, il terzo giorno, o gloria al Signore, chi cerca il Signore sarà salvato, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, salvatevi dall'inferno, gloria al tuo nome Gesù, pentitevi dei vostri peccati, Gesù Cristo è l'unica salvezza, oh gloria al Signore, gloria al Signore, alleluia, Gesù è il salvatore del mondo, non una religione che non ti può salvare, non una messa la domenica, ma Gesù Cristo è la via, la verità e la vita, Gesù è la via, la verità e la vita, Gesù Cristo è l'unica via, l'unica via che porta al cielo, Amen, gloria a Dio, gloria a Gesù, Santo, in nome di Gesù Cristo, gloria a Gesù, Signore, Gesù, Amen, gloria a Dio, Amen, gloria a Dio, Amen, benedici questi curi di pietra, Signore, nel nome di Gesù, Amen, gloria a Dio, gloria a Gesù, Amen, Amen, gloria a Dio,